Manca poco per completare l'organico, ma quel poco non dobbiamo sbagliarlo. Lo ha detto Oddo domenica scorsa in conferenza, lo ha ribadito ieri attraverso gli schermi di Sky Sport e un momento di stasi apparente per il mercato del Pescara che cerca almeno un giocatore per reparto per presentarsi al meglio ai primi appuntamenti ufficiali. I fronti caldi nelle ultime ore sono il centrocampista Valerio Verre come potenziale uscita e l'attaccante Gonzalo Bergessio come possibile entrata. Su Verre si sono fiondati tre club, era già vivo l'interesse di Sampdoria e Inter ma nelle ultime 36 ore si è fatta sotto anche la Lazio che pensa proprio ad un giocatore cresciuto sulla sponda apposta, quella romanista, per rinforzare il reparto mediano, specie dopo le partenze di Candreva e Onazzi. Il Pescara però ha rimandato al mittente la proposta di 4 milioni più i giocatori Germoni e Perea ma la società di Lotito potrebbe tornare alla carica soprattutto mettendo sul piatto i soldi, 6 milioni e questa la cifra richiesta dal presidente Sebastiani. Finora è ferma ad una proposta di 5 milioni la Sampdoria che però incassando i soldi per la cessione al Villareal di Soriano potrebbe salire. Si è riacceso anche il fronte Inter che vorrebbe prendere subito la mezzala senza ripetere l'operazione Caprari, cioè lasciando il giocatore un anno in prestito a Pescara. Sul fronte entrate il Pescara ha individuato in Gonzalo Bergessio, un profilo che fa al caso suo il 32enne attaccante argentino. In Italia si è fatto apprezzare per tre positive stagioni a Catania, quindi un anno non entusiasmante alla Sampdoria. Il giocatore ora è di proprietà dei messicani dell'Atlas di Guadalajara. Più che la formula, prestito, quel che più rende difficile l'operazione è l'ingaggio elevatissimo, intorno al milione e mezzo di euro. Se le pretese dell'attaccante dovessero scendere sensibilmente, l'operazione potrebbe farsi. Tutt'altro che tramontata l'ipotesi Marcello Trotta, che potrebbe prendere la strada verso l'Adriatico dopo il preliminare di ritorno del Sassuolo contro il Lucerna. Intanto la squadra ha chiuso il ritiro di Palena e nel corso della notte tornerà subito in città dopo il Memorial Morosini contro il Vicenza. La squadra lavorerà nei prossimi giorni al Poggio degli Olivi in vista del test di sabato sera al Patini di Castellisango contro il Seltavigo, squadra di Liga Spagnola che giorni fa ha battuto di misura inamichevole la Fiorentina al Franchi.